Ciao ragazzacci, io sono Emet155 e oggi siamo qui su Ultimate Fishing Simulator, versione all'accesso anticipato, già disponibile su Steam, vi lascio il link in descrizione se volete comprarlo. C'è un'enciclopedia fatta veramente bene, ci sono il 50% dell'eletto circa, un po' meno del 50% dei pesci disponibili nella versione definitiva, io qualcuno già l'ho pescato, l'ho preso, ci sono... Per ogni pesce c'è scritto dove abita la media di lunghezza, il chili, si note principalmente di avannotti e invinterbrati, va bene, si vive fino a profondità di 200 metri, quindi un pesce... Vabbè, comunque questi qui c'è tutta l'enciclopedia, questo è quello che mi piace perché c'è l'enciclopedia e tu puoi andare a capire il pesce che stai andando a prendere, tipo una ricciola pesa fino a 70 chili, questa è una cosa che mi piace. Poi qua c'è tutto quanto, non ci sono le microtransizioni che ci sono di solito nei giochi di pesca che mi danno fastidivissimo, io ho preso questa trottoro, l'ho presa di 2 chili, 2 chili non è male, è un bello pesciccino che può arrivare fino a un peso di 15. Allora, noi possiamo andare a pescare, io avendo un livello 1 e 130 dollari posso andare a pescare solo a Lago Betti, a Lago Betti che si trova nell'Indian Peaks Wilderness, circolato da vette caratteristiche, va bene, quindi prendi a toccare la pesca, il mulinello preferiti, quindi puoi pescare sia a mosca che in tutti i modi possibili e immaginabili, qui peschi che è una bellezza. Si trova Trotar Corbaleno, Trotafario, Salmerino di Fontana, Trotatoro, Trotoridea, Gola Rossa, possiamo giocare multiplayer o locale, scelgo locale così ci sono io, se no mi fregano i pesci, mi fregano. A me piace questo gioco, è un simulatore che stizza l'occhio all'arcade, adesso ve lo faccio vedere. Come dicevo il gioco non è completo, è tutto quel che volete, però secondo me è già capace di avere, che so, sti funghi, scusi, ma che so, funghi che sono delle sedie, sono. Allora, siamo all'orario, sono le 7 di mattina, più mi gira un po', va bene, io, ci possiamo spostare intorno al lago per andare a pescare, questa è una cosa che mi fa molto piacere. Io andrei un attimo su I, non è vero, andrei un attimo su ESC, non si preme la I, io ho settato il livello di galleggiamento a 204, pesco con delle moschine, peraltro le ESC, molle, no, Oder, Womber, non mi ricordo mai come si chiamano ESC, io ho queste fly, è tradotto ma non è tradotto benissimo, perché per esempio qua ne è tradotto, Maggot, che sarebbe il vermino, non è tradotto, Pea, che è pisello, non è tradotto, Mais, Mais e Mais ragazzi, non vi lamentate il Mais. Noi possiamo scegliere tutte le cose di livello 1, possiamo pescare con diverse ESC, potrei prendere anche Cubcatbait Small, va bene, no, va bene, io intanto butto la mia ESC, intanto che decido, vi faccio vedere come si pesca con il cosino. Il bello di questo gioco è che voi, prima, allora, è realistico ragazzi, perché voi sotto non potete vedere niente, non potete vedere, però a me piace niente, a me piace vedere il pesce, mi piace vedere quando ha bocca, lo vedete qua, voi mettete così e aspettate a che il pesce venga ad abboccare, ok, forse è questo, forse è questo, lo vedo diretto alla mia ESC, vieni, mordi, 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 devo stare solo attento perché, ok, tira, colpo troppo veloce, come colpo troppo veloce, il pesce è sfuggito, ma io ho dato il colpino, scusi, no, 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 qua mi state imbrogliando, mi state fregando tantissimo, potete anche pescare da fuori perché c'è lo zoomino lì sulla destra che vi fa vedere il, come si chiama, che vi fa vedere il vostro galleggiante, ma a me piace vederlo da dentro per vedere il pesce che ha bocca, vedete là, c'è il galleggiante, potresti pescare anche così, ma a me non mi interessa pescare così, andiamo, mettiamoci uno questa, c'è un pesce qui, dimmi che sei interessato, non è interessato praticamente, non è interessata la mia moschina, eccolo, 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 mordi, non capisco come fare, dagli il colpo, devo aspettare, devo aspettare, non fammi prendere dal panico, non farti prendere dal panico, lo vedi qua, lo guarda, lo sta guardando, lo sta guardando, lo sta guardando, e tira, e tira, ok, l'abbiamo preso ragazzi, allora, mo' c'è da lottare, lottiamo un po', venga, guarda, è potentissimo questo, eh, metti, chiudi, 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 chiudi la frizione, non so mai se è 100 o il resto, ok, non tiriamo troppo, attenzione alla tensione del filo perché si potrebbe rompere, quindi tiriamo e poi raccogliamo, tiriamo, uh, e poi raccogliamo, ok, 13 metri, tiriamo, ok, e raccogliamo, ok, perfetto, mi piace vedere il pesce, c'è qualcuno che magari i più puristi potrebbero dire, no, non ci sta, non ci sta, però, abbiamo preso una trota iridea gola rossa, eh, di mezzo chilo, quindi piccolina, 23 centimetri, potrei venderla o rilasciarla, se la rilascio mi dà esperienza, quindi salgo di livello, io faccio rilascia, eh, i soldi in questo momento non ci interessano, però un po' i soldi ci interesserebbero, a dire la verità, quindi, proviamo a cambiare un attimo, eh, prendiamo a prendere questo, acquistiamo questi, ok, togliamo questo e utilizziamo questi qua, ne ho solo uno, di questi ne ho 29, mamma mia quanto mi costa, mi costa un sacco ragazzi, devo stare attento con i soldi, buttiamo questo qui col vermino perché non vorrei che, eh, per ogni pesce lui può darsi che ti dia, eh, diversi, vedi, questo qui è un po' più vibrante, è un po' più grosso, può essere interessante, devo solo stare, dimmi che già vieni a boccare tu? No, non mi viene da boccare, è un bel laghetto questo qui, bello pieno, arriva, arriva, arriva la trota, no, non è vero, arriva la trota che mangia il mio boccone, oh, oh, eccolo, 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 lo vedi che lo sta guardando, dimmi che te lo risucchi, risucchiatela, risucchia, ok, tira adesso, devi aspettare che, non ho capito bene come funziona il fatto della, devi aspettare che il galleggiante vada giù, però il pesce sembra che già abbia morso, non ho capito, mi sembra una bella, una bella, una bella trottina questa, non so che cos'è, ma mi sembra bella e interessante, lì c'è una bella zona di pesca, vieni qua, piano, 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 non raccogliete troppo in fretta perché rischiate di spaccare la, tutta la lenza, guardate qui la tensione, cioè sia lì sul pesce che sotto in basso al centro proprio, prendiamolo, trotar crobaleno, 1,52 kg, quindi un chilo e mezzo, 40 cm, 24, no, no, io la vendo, avendo, che caspita fai, vendi, peraltro io vorrei andare a vedere una cosa, la trota, eh, qua non c'è scritto come, come faccio a beccarla, trota, trota, non ho capito come faccio, black crap, guardate quando ce ne stanno, salbirino di fontana, trotafario, la devo prendere, trotatoro l'ho presa, allora, trota iridea, gola rossa, questa è quella che ho preso prima e arriva fino a 8 kg, quindi ne ho preso una molto piccola, mezzo kg, è piccolissima, trotatoro, va bene, l'avevo già presa, pesce gatto, non mi interessa, con le gole, si può andare, si può, ragazzi, si può andare sia in mare che con la barca, adesso non ve la posso far vedere in questa prima puntata, perché sono qui, eh, allora io l'ho presa da 1,52, arriva fino a 23 kg, e può raggiungere un metro e mezzo, una bella, una bella trotetta, una bella trotetta, aspetta, io qua, premies che non ce l'amo, potrei comprare questo, proviamo qui col pane, proviamo con un pezzo di pane, va, acquista, e utilizza, ok, utilizziamo questo pezzettino di pane, il, sapete cosa, io qua ci ho messo 2 grammi, ci ho messo 2 grammi di peso, perché se io vado sul galleggiante, io sto utilizzando questo, dice che il peso ottimale è 2, non so cosa cambia da un galleggiante a un altro, probabilmente, la grandezza, non l'ho capito bene bene, guardiamoci sempre sotto, ragazzi, a me piace guardarmi da dentro, lo so, è irrealistico, non si guarda, cioè il pescatore non vede l'amo, eh, però mi piace, ragazzi, che vi devo dire, mi piace, arriva il pescino, che mangia il mio pane, wow, questo è pane calabrese, è solo un pescino, un pescino calabrese può mangiare il pane calabrese, eh, non è interessato, non è interessato, è interessato, è interessato, è interessato, è interessato, lei, non è interessato, non è interessato, ragazzi, ho anche alzato la qualità, così è tutto più bello, però ritorniamo qui, perché io devo guardare, è questo pesce, lo vedo direttamente verso di me, lo vedi interessato, non è interessato, non è interessato, però lo vedi interessato, ragazzi, perché è sempre lui, lo vedi che si, lo guarda quel pezzo di pane, guarda, se tu sei un pesce, non vedi quel pezzo di pane lì, eh, sei un pesce stupido, fatelo dire, eh, muori di fame, eccolo, deve essere lui, no, non è interessato, ragazzi, ma non è che sto pane qua non è buono, mi avete dato il pane, il pane duro, che questi pesci qui senza denti non riescono a mangiarsi il pane duro, mi avete dato il pane morbido, mi avete dato, guarda, non sono interessati, sono qui da, non so quanto, però non vanno a mangiare, forse è questo, forse è questo, è questo, è questo, è questo, è questo, è questo, ragazzi, fermi, fermi, questo è un bel pesce, ma porca miseria, ce l'è passato a due centimetri, prendila, quella caspita diametta, no, ma anche prendilo dalla, dalla, dalla coda, prendila, ma che parte, no? Niente, ci rinuncio, col pane non si piglia niente sto loghetto, e cos'è, il pane fa schifo, fa, eh, mi fa schifo il pane, mi fa schifo, inoltre, volendo, io premo sempre io, non so perché, voi potete anche pescare nell'altro con, o cucchiaini, o cucchiaino rotante, questo qui sapete che non l'ho mai usato, quanto mi costa? Eh, no, ma ci vuole il livello 2, porca miseria, non lo posso comprare, posso comprare un cucchiaino ondulante, io ce n'ho uno, potrei comprare un altro, ma ho pochissimo, vabbè, compriamone, questo livello 4, potrei comprare questo, misura 1 di 5, quindi piccolino, questo qui è diverso, compriamolo, va, compriamo che quell'altro l'avevo già provato, utilizza, avete qua, non dovete mettere esche, pure che voi andate sull'esca, eh, non ve la fa utilizzare, perché questi qua sono i cucchiaini classici, facciamo riprendi, eh, qui è diverso, qui è molto più, io mi trovo, mi trovo in difficoltà a pescare in questo modo, ok, devo abbassare la velocità e cerchiamo di farlo, di farlo, di farlo muovere, quindi o andate piano, andate proprio piano, poi gli date un colpettino, poi andate piano, vedete qua, a voi, a me piace questa cosa, perché riesco, riesco a vedere il pesce, poi gli fate fare un po' di metri, poi tirate, un po' di metri piano piano e poi tirate, un po' di metri piano piano e poi tirate, eh, dovete, dovete farlo andare un po' fino al 20 e poi gli date un colpettino, colpettino sarebbe l'accelerazione che i pesci fanno, però avete qua, sono un po' troppo alto in questo momento, eh, io non mi trovo, questo qui secondo me vuole venire, lo avevo deciso ragazzi, non fermiamoci, non fermiamoci, non fermiamoci, no, si è perso, andiamo così, straight, slow, io so fare solo straight, slow, certe volte faccio anche altro, ma non sempre mi riesce, non riesco a farla bene, allora, questa qui non mi piace, eh, lo vedi qua, io non mi trovo bene, non sono bravo io, devo utilizzare una tecnica, una tecnica diversa, è che cos'è, mi si parcia tutta la lingua, Allora lanciamo e vediamo un po' se lo facciamo in modo diverso, devo aspettare che scenda più in basso, in questo momento è a 9, un metro, devo scendere più in basso, devo arrivare su un paio di metri e poi inizio a tirare, ne basiamo qui e poi inizio a tirare così. Non lo devo far andare troppo veloce, vedete qua in mezzo alle piante, è come se lui fosse una preda vera, gli date un colpettino, poi lo rilasciate, lo fate andare un po', qua se voi tenete premuto comunque lo stesso, vedete qua anche straight slow, io tre, in pratica sarebbe una tecnica, ci sono diverse tecniche che sono anche descritte, però non sono tutte semplicissime da fare. Però vedo che qui i pesci non ce ne stanno, scusi, signor pesce, o qualcuno mi viene a mordere il lametto qui, vedete che lo faccio di nuovo scendere, andiamo qua, se lo faccio scendere vediamo se qualcuno si viene, guarda quello era grossissimo era, non sono interessati, non sono interessati, arriva alle 7 e mezza e dice ah no, già abbiamo mangiato il caffè col cappuccino, cornetta cappuccino, allora non siamo più interessati a mangiare te, e che cos'è, io così non riesco a fare mai niente, vai, lo vedo interessato, scusi lei, la prendo di striscio, la prendo, venga a mangiare, venga, venga a mangiare, ma si immagini la mia, la mia esca, la mia esca, si immagini l'esca, che cos'è, che qui non si fa niente, non si fa, guardi, lo devo prendere, no ragazzi è bellissimo, con la visuale interna è bellissimo, perché è lì, dici che tu non ce la fai, non ce la puoi fare, andiamo dritti, dritti fortissimo, utilizziamo, vi faccio vedere che ci sono scritte le tecniche, dove stanno le tecniche, sono qui, queste si può giocare con il gamepad, io non ci gioco con il gamepad, le cose, combatti, rete, pesce, tecniche di pesca, c'è straight, slow, straight, con velocità di volgimento leggermente superiore, quindi devo fare straight, lift and drop, quindi avvolgiamo la lenza, strattonandola ogni qualche metro con il tasto destro del mouse, poi c'è stop and go, questo è difficilissimo, non riesco mai a farla, e poi c'è twitching, consiste in uno strattonare l'esca premendo regolarmente RMB, facciamo questo twitching, facciamo twitching, riusciamo a fare del twitching secondo voi, io non credo di farsa, mi spiace che non abbia preso un sacco di pesci, volevo far vedere un sacco di pesci, però vediamo questo twitching, twitching è così in pratica, E con l'RB, e tu twitchi, 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 io sto twitchando però, io sto cercando di premere RB, ma forse devo raccogliere e twitchare, raccogliere e twitchare, ah sono sul ground, ok bello, non sono più sul ground, twitcha, 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 ok, ta ta ta, muovi il culetto, muovi il culetto, muovi il culetto, E non muove, non muove Vedi che non lo muove Twiccia, 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 twiccia Io sto premendo regolarmente RB Eh, non mi funziona l'RB Premiamolo regolarmente Non troppo regolarmente magari Uh, guarda, guarda questo Scusi, mo, mo, mo Non mi morde Mi morda l'esca, mi morda l'esca Twiccia, twiccia, twiccia Eh, non, io volevo dire twerca Twerca, twerca, twerca Eh, non twerca La mia cosa non twerca Io la sto facendo muovere come un'esaurita Ma non è molto realistica, si vede Io so fare bene, eh, straight slow So fare bene, magari se vado un po' più forte Mi dà la straight O se la faccio sopra Secondo voi se la faccio in alto Non prende niente, è vero? Io provo a lanciare di nuovo Io, vedete, questo qui è il mio problema Con, hm, con queste esche Con questi, come si chiama Che ogni volta sbaglio Con questi cucchiaini Ehm, non riesco a prendere un granché Eh, un cucchiaino è più difficile Invece con l'esca lì la lasci E aspetti e poi la pigli Invece così non vado a nessuna parte Io, mo, provo a tenere questa qui E faccio uno straight slow Vediamo se qualcuno è interessato a me È interessato? Salve Sono, sono un'eschettina, bella Sono un'eschettina Straight slow, lo vedi? No, lo straight slow Poi non Come piano Cioè, è troppo in alto me lo fa È strano, è strano Io non riesco a gestire Non riesco a gestire la Come si chiama qui? Andiamo più veloce, magari Oh, magari qualcuno è interessato Scendi Vediamo se riesco a farla salire Guarda, neanche scende E risali Mi faccio fare qualche metro E poi mi fermo Due metri e mi fermo Adesso arrivare fino a dodici Scendi fino a giù Scendi fino a giù E riparti Ripartiamo con l'accelerazione Arriviamo a dodici metri E mi fermo Guarda, i pesci sono qui Non sono proprio interessati Guarda, qui lo prendo di striscio E andiamo Quindi devo arrivare fino a dieci A dieci mi fermo Andiamo ad otto Ok, tu devi mordermi Cioè, caspita Se non lo vedi adesso Sto cosa Sei proprio cercato Sei un pesce che merita di morire Scusi signor pesce Mi deve mordere Morda La prendo La coda La prendo E risale Ti dà un colpettino E si ferma Devi fare così Devi dargli proprio Cioè, con questo qui Secondo me è più facile Dall'esterno Perché dall'esterno Ve lo faccio vedere Riesci magari a gestire meglio No, aspetta Ho sbagliato Ho sbagliato Tira, tira, tira su Tira tutto su Tira tutto su Io sono questa cosa qui 0-100 non capisco Con 0-100 così Fa lo stesso Allora, tiriamo Tiriamo in fondo E guardiamo dall'esterno Dall'esterno mi trovo meglio io Dall'esterno mi trovo decisamente meglio Quindi siamo qui Abbassiamo un po' la velocità A un metro E facciamo così Allora, raccogli E poi dai un colpo Raccogli un po' E dai un colpo Raccogli un po' E dai un colpo No, non riesco a farla ragazzi Non riesco a farla È proprio difficile Io riesco a fare solo straight Slow Non solo quello riesco a fare Raccogli un po' E dai un colpo Raccogli un po' Piano 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 Ti fermi E dai un colpo E poi riprendi a raccogliere O devo raccogliere più velocemente Vediamo se lo faccio raccogliere così A 300 metri all'ora Straight Lo vedi? Ho aiuto a fare straight Guarda, straight Dove mi piace? Possibile che gli piace questo straight Così forte Che cos'è? Ci vuole un pesce squalo Ci vuole per prendere un pesce Io voglio provare con straight Poi ragazzi Ritornerei alle vecchie esche Perché Sono più bravo con le vecchie esche Allora, facciamo arrivare fino a 2 metri Poi gli do tutto il colpo a tirare proprio La Ok Torna sotto Vai così E tira 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 così come un pazzo Vai di straight Mettiamola a 4 però Straight ce la fa ragazzi Mettiamola a 3 Se no Raccolgo subito Guarda Lo straight è bellissimo Lo straight è facilissimo da fare Lo padroneggio lo straight Che è una bellezza Vai 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 che ci sono Scusatemi pesci Perché non volete mangiarmi? Guarda quello Guarda quello Che secondo me Uh L'ho preso ragazzi L'ho preso Fermo 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 Ragazzi Meno male che l'ho preso Perché se no qualcuno poteva dire Non prendi mai niente No no l'ho preso Quindi tira tira forte Tira Tiralo di qua Tiralo di qua Sto pesce Ok Dovete indirizzarlo voi il pesce Il pesce va comandato con la canna Avvicinati Uh Uh Aspetta Che poi c'è Se voi prendete spazio Potete rilasciare del filo Se vedete che Non ce la fate a Ad abbassare la tensione Vieni 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 da questa parte E' proprio qui eh E dai 12 metri che ci vuole Non riesco a tirarlo ragazzi Se aveva l'attrezzatura Mai Migliore E' l'attrezzatura più buona Vieni Vieni Aspetta Vieni qua Fatti recuperare Spero di aver preso un bel pesce Spero di aver preso un bel pesce Questo è l'ultimo pesce della giornata Ok Ho preso Ci mettevo di meno prima Ci mettevo Trovate l'idea con la rossa 0,52 27 cm Vieni Vieni Sono deducissimo ragazzi Sono veramente dell'uso Allora io spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento mi piace Tanto piove Se volete vederne altri Fatemelo sapere sotto con un commento Iscrivetevi al canale se ancora siete iscritti Condiviete il video se potete E noi ci vediamo nelle prossime puntate Ciao 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 Ciao